in casa del marchese de bertrand il pranzo d'apertura della caccia stava per finire undici cacciatori otto giovani donne e il medico del paese erano seduti intorno alla grande tavola bene illuminata e adorna di fiori e frutti il discorso cadde sull'amore e nacque una grande discussione l'eterna discussione per sapere se si può amare veramente una sola volta o più volte furono citati esempi di persone che avevano avuto un solo serio amore e ne furono citati altri da altre persone che avevano amato spesso con violenza in generale i uomini sostenevano che la passione come le malattie può colpire parecchie volte la stessa persona e colpire a morte se qualche ostacolo gli si frappone per quanto questo modo di vedere non fosse contestabile le donne l'opinione delle quali era fondata più sulla poesia che sull'osservazione affermavano che l'amore l'amore vero il grande amore poteva toccare una sola volta ciascun mortale che questo amore somigliava al fulmine che un cuore da lui toccato rimaneva poi così svuotato devastato incendiato che nessun altro sentimento per quanto forte anzi addirittura nessun sogno avrebbe più potuto germogliarvi il marchese che aveva molto amato combatteva con vivacità quella idea convenzionale io invece vi dico che si può amare più volte con tutte le proprie forze e con tutta la propria anima come prova dell'impossibilità di una seconda passione voi citate persone che si sono uccise per amore vi risponderò che se non avessero commesso la sciocchezza di suicidarsi cosa questa che toglieva loro ogni possibilità di ricaduta sarebbero guarite e avrebbero ricominciato e ancora sino alla loro morte come chi ha bevuto berrà di nuovo chi ha amato amerà è soltanto questione di temperamento fu scelto come arbitro della disputa il dottore vecchio medico parigino ritiratosi in campagna e lo si pregò di dare il suo parere ma di pareri lui non ne aveva come il marchese ha detto è questione di temperamento per conto mio ho avuto conoscenza di una passione che durò 55 anni senza un giorno di tregua e che terminò con la morte la marchesa batte le mani che bellezza e che sogno essere amati così quale felicità essere circondati per 55 anni da questo amore ostinato e commovente come ha dovuto essere felice e benedire la vita a colui che fu adorato così il medico sorrise infatti signora non sbagliate su questo punto fu proprio un uomo ad essere amato in questa misura straordinaria e lo conoscete anche è il signor Chouquet il farmacista del paese quanto alla donna avete conosciuto anche lei è la vecchia impagliatrice di sedie che veniva tutti gli anni al castello ma vi dirò di più l'entusiasmo delle donne udito questo era finito e il loro volto disgustato diceva come se l'amore avesse dovuto posarsi soltanto su animi delicati i soli degni dell'interesse delle persone per bene il medico continuò tre mesi fa fu chiamato al letto di morte della vecchia era arrivata il giorno prima nel carrozzone che le faceva da casa tirato dal ronzino che avete visto e accompagnata da due grandi cani neri suoi fedeli amici e guardiani il parroco era già lì e la ci nominò suoi esecutori testamentari e per chiarirci il significato delle sue ultime volontà ci raccontò tutta la sua vita non ho conosciuto mai nulla di più singolare di più toccante suo padre era un impagliatore e sua madre impagliatrice lei non aveva mai avuto una casa che fosse ben piantata in terra sin da piccola infatti errava cenciosa pidocchiosa sordida la famiglia si fermava all'entrata dei villaggi lungo i fossi staccavano la vettura il cavallo brucava l'erba il cane dormiva col muso sulle zampe e la piccina si ruzzolava sul prato mentre il padre e la madre all'ombra degli olmi della strada rabberciavano tutte le vecchie sedie dell'intero comune non parlavano molto in quella casa ambulante dopo le poche parole necessarie per decidere chi avrebbe fatto il giro delle case lanciando il bel noto grido impagliatore di sedie si mettevano ad attorcigliare la paglia seduti faccia a faccia o fianco a fianco quando la bambina andava troppo lontano tentava ad entrare in relazione con qualche monello del villaggio la voce collerica del padre la richiamava torna subito qui la zarona erano le sole parole di tenerezza che la udiva divenuta più grandicella la mandavano a ritirare le sedie da riparare allora iniziò a conoscere qua e là qualche ragazzino ma questa volta erano i genitori dei suoi nuovi amici a richiamare brutalmente i loro figli vieni subito qui monellaccio che non ti veda più parlare con quegli straccioni spesso i ragazzacci le tiravano delle sassate alcune signore le avevano dato qualche soldo che serbò gelosamente un giorno all'età di undici anni mentre passava per questo paese incontrò dietro il cimitero il piccolo sciocché che piangeva perché un compagno gli aveva rubato dei soldi quelle lacrime di un ragazzo della borghesia di uno di quei fanciulli che nella sua testolina di diseredata si immaginavano sempre felice contenti ma sconvolsero si avvicinò e conosciuta la ragione di quella pena versò nelle mani di sciocché tutti i suoi risparmi sette soldi che il bambino prese con naturalezza asciugandosi le lacrime allora pazza di gioia lei ebbe l'audacia di baciarlo lui dato che stava guardando le monete la lasciò fare non vedendosi né respinta né picchiata ricominciò lo baciò e lo abbracciò di tutto a cuore poi scappò via che cosa stava accadendo in quella povera testa il suo attaccamento a quel moccioso era dovuto al fatto di avergli donato la sua ricchezza di vagabonda o a quello di avergli dato il primo tenero bacio il mistero è lo stesso tanto per i piccoli che per gli adulti per mesi e mesi sognò quell'angolo di cimitero e quel ragazzo nella speranza di rivederlo rubò ai genitori prendendo un soldo qui un soldo là su una impagliatura o sulle spesucce delle quali era incaricata quando tornò aveva in tasca due franchi ma poteva appena scorgere il piccolo farmacista tutto azzimato dietro i vetri della bottega paterna tra un boccale rosso e un'atenia lo amò ancora di più sedotta commossa estasiata da quella gloria dell'acqua colorata da quell'apoteosi dei cristalli lucenti conservò in sé quell'indelebile ricordo e quando l'anno successivo incontrò il ragazzo che dietro la scuola giocava a biglie con i suoi compagnucci lo prese tra le brazza e lo un vero tesoro che sciocché guardava con occhi spalancati il ragazzo li prese e si lasciò accarezzare quanto e dove lei volle per altri quattro anni versò tutte le sue riserve nelle mani di lui che intascava coscienziosamente in cambio dei baci che consentiva gli fossero dati si trattò una volta di un franco e cinquanta una volta di due franchi una volta di sessanta centesimi pianse in quell'occasione di dolore e di umiliazione ma l'anno era andato male e l'ultima volta di cinque franchi una grossa moneta rotonda che lo fece ridere di piena soddisfazione lei non pensava più che a lui ed egli ne aspettava il ritorno con impazienza e vedendola le correva incontro e questo faceva abbalzare il cuore della giovinetta poi lui scomparve l'avevano messo in collegio i suoi genitori lei lo seppe dopo essersi abilmente informata allora con infinita diplomazia riuscì a far cambiare ai suoi l'itinerario solito e a far ripassare di qui nel periodo delle vacanze ebbe successo ma solo dopo un anno di astuzie era dunque rimasta due anni senza vederlo e lo riconobbe appena tanto era cambiato era cresciuto più bello imponente nella divisa dai bottoni dorati e gli finse di non vederla e le passò accanto impettito pianse per due giorni ed allora fu una sofferenza continua tornava qui tutti gli anni gli passava davanti senza osare salutarlo e senza che egli nemmeno si degnasse di alzare gli occhi per guardarla lo amava appassionatamente mi disse è l'unico uomo che io abbia visto in terra signor dottore non so nemmeno se gli altri esistessero per me i suoi genitori morirono continuò il loro mestiere ma prese due cani invece di uno due terribili cani che nessuno avrebbe osato sfiorare un giorno tornando in questo villaggio dove era rimasto il suo cuore scorse una giovane donna che usciva dalla farmacia sciocché al braccio del suo amico era la moglie si era dunque sposato la sera stessa si gettò nel laghetto che è sulla piazza del municipio un ubriaco nottamburo la trazza in salvo e la portò in farmacia il giovane sciocché scese in veste da camera per prestarle soccorso e senza mostrare di riconoscerla la spogliò la frizionò e poi le disse con voce dura ma siete impazzita come si fa ad essere così stupidi le aveva parlato ciò bastò per guarirla sarebbe stata felice per molto tempo sciocché non volle accettare alcun compenso per le sue prestazioni benché lei insistesse vivamente per pagarlo e tutta la sua vita trascorse così impagliava pensando a sciocché tutti gli anni lo scorgeva dietro la vetrina prese l'abitudine di fare da lui le sue provviste di medicinali in tal modo lo vedeva da vicino gli parlava e gli dava ancora del denaro suo come vi ho detto in principio è morta questa primavera dopo avermi raccontato tutta questa triste storia mi pregò di consegnare tutti i risparmi che aveva raccolto nella sua esistenza a colui che aveva pazientemente amato perché aveva lavorato soltanto per lui digiunando anche per mettere da parte ed essere sicura che almeno una volta quando fosse morta egli avrebbe così pensato a lei mi diede dunque 2327 franchi quando ebbe esalato l'ultimo respiro lasciai al parroco 27 franchi per la sepoltura e trattenne il rimanente il giorno dopo mi recai da liscio che stavano terminando di fare colazione uno di fronte all'altro grossi e rubicondi o lezzanti di prodotti farmaceutici impettiti e soddisfatti mi fecero accomodare mi offrirono un bicchierino di kirsch che accettai e cominciai il mio discorso con voce commossa persuaso che avrebbero pianto quando il dottore ebbe compreso che era stato amato da quella vagabonda da quella impagliatrice da quella zingara sciocchè sobbalzò per l'indignazione come se con lei gli avesse sottratto la considerazione la stima della gente onesta il suo onore qualcosa di delicato che gli era più caro della vita sua moglie esasperata ripeteva quella stracciona quella stracciona quella morciosa senza trovare altro da dire lui si era alzato camminava a lunghi passi dietro la tavola mentre la papalina gli pendeva tutta su un orecchio balbettava ma com'è concepibile tutto questo dottore che cose orribili per un uomo che fare o se l'avessi saputo mentre era viva l'avrei fatta arrestare dai gendarmi e mettere in prigione e non ne sarebbe più uscita ve lo galantisco io rimanevo lì stupefatto dal risultato della mia pietosa ambasciata non sapevo cosa dire e cosa fare ripresi mi ha incaricato di consegnarvi i suoi risparmi che assommano a 2300 franchi visto che ciò che vi ho riferito vi ha ferito così tanto il meglio sarebbe forse destinare questo denaro ai poveri mi guardarono entrambi paralizzati dalla sorpresa mi tolsi il denaro di tasca miserabile denaro di tutti i paesi e di tutte le specie monete d'oro fra misti a qualche spicciolo poi domandai allora cosa avete deciso la signora sciocchè parlò per prima ma dal momento che è stata l'ultima volontà di quella donna mi sembra che sarebbe difficile rifiutare il marito vagamente confuso disse con quel denaro potremmo sempre comprare qualche cosa per i nostri ragazzi io dissi con tono reciso come vorrete e gli riprese date pure qua dal momento che ve ne ha incaricato troveremo il modo di impiegarlo in qualche opera buona lasciai il denaro salutai e me ne andai il giorno dopo sciocché venne a trovarmi e senza preamboli disse mi ha lasciato qui la sua vettura quella quella donna che cosa volete fare di quella carretta nulla prendetela se volete bene mi farà comodo la metterò nell'orto e la utilizzerò come ripostiglio mentre stava andando se ne lo richiamai ha lasciato anche il cavallo e due cani volete anche quelli ma no perbacco cosa volete che me ne faccia fatene pure ciò che volete e rideva mi diede la mano io gliela strinsi che volete in un paese il medico e il farmacista non possono essere nemici ho tenuto per me i cani il parroco che ha un grande cuore ha preso il cavallo la vettura fa da ripostiglio nell'orto di sciocché e col denaro il dottore si è comprato cinque obbligazioni delle ferrovie questo è il solo amore profondo che io abbia avuto occasione di conoscere nella mia vita il medico tacque allora la marchesa che aveva gli occhi pieni di lacrime sospirò davvero sono soltanto le donne che sanno amare grazie